Prova, prova! Questo cosa è acceso? Non ho molto tempo, stanno venendo a prendermi. Ma devo rivelare la verità a tutti voi. Spero che questo video vi arrivi sano e salvo. Se lo state vedendo, finalmente scoprirete i segreti che noi venditori di telefoni non vi diremmo mai. Appena entri nel negozio c'è qualcosa che ti spinge a comprare. Le pareti sono ricoperte di modelli da toccare e provare. I più costosi ad altezza sguardo, ovviamente. Noterete anche dei tavoli con i modelli da provare nel centro del negozio. Questo incoraggia gli acquirenti a muoversi in un grande cerchio, studiato apposta per rendere le persone più propense a spendere. E poi mi avvicino io con un grande sorriso amichevole. Ehi, come posso aiutarti? Quello che voglio dire è, cosa posso venderti? In realtà non guadagniamo con la vendita di un semplice telefono, ma più con quella di accessori e pacchetti. Vi spingiamo morto. Sappiamo bene che pagherai per la convenienza. Quando comprate un nuovo telefono, naturalmente vi serve una custodia, una protezione per lo schermo, un popsocket. Tutte cose che noi vendiamo proprio qui, nel negozio. Anche facendovi uno sconto incredibile, risparmierete di più acquistando lo stesso accessorio online. Non comprate un nuovo telefono subito dopo la scadenza del vostro abbonamento con il modello vecchio. Aspettate solo un po' di tempo, fino a quando non mi presenterò con le offerte speciali. Vedete, perdere un cliente non è mai una buona cosa, per cui farvi avere uno sconto è molto meglio che lasciarvi andare da uno dei miei concorrenti. Noi rappresentanti abbiamo un numero fisso di clienti al mese a cui dobbiamo vendere il nostro prodotto. Ecco perché siamo più interessati a vendervi un telefono alla fine di ogni mese che all'inizio. Siamo pronti a farvi uno sconto, fateci solo rispettare la nostra quota. Non fraintendetemi, non è che siamo cattivi per qualche motivo particolare, ma essere in questo business ci fa nascondere le cose ai clienti. Il mio lavoro e il mio stipendio dipendono da variabili come il numero di garanzie che vendo, quindi non arrabbiarti, sto solo facendo il mio lavoro. Non avere paura, la nostra parlantina sciolta e la nostra sicurezza possono sconvolgerti, ma in realtà sei tu ad avere il controllo. Se sai cosa stai cercando quando un commesso ti offre qualcosa di cui sai di non avere bisogno e che non ti ha spinto ad andare al negozio, non lo comprare. Quando vedi un prezzo basso per un buon telefono non prenderlo subito, di solito c'è un tranello. Certo, potrai avere quel pezzo incredibile o magari anche un telefono gratis, ma dovrai aggiungere un contratto mensile, sottoscrivere il nostro pacchetto via cavo o scegliere altre opzioni e pagare per ottenere quell'affare. Se volete terminare il contratto con il vostro operatore potete dire che vi state trasferendo in un'area non coperta ottimamente dal loro servizio. Anche se hai già firmato un contratto di due anni, questo trucco ti aiuterà ad uscirne senza pagare il contributo di recesso anticipato. Non controlliamo se stai dicendo la verità o meno. Oggi pochissime persone riescono a lasciare il telefono anche per soli 5 minuti, ma non portarlo mai in bagno mentre fai una doccia calda. Il vapore può entrare nel telefono, condensarsi e corrodere le componenti interne. Potrebbe non succedere dopo una doccia, ma il telefono a lungo andare avrà dei problemi, proprio come se fosse caduto nella vasca. I megapixel della fotocamera non hanno molta importanza. Quando scegliete un telefono fate più attenzione all'apertura. Più è basso il numero, meglio è, e ad altre caratteristiche come il doppio obiettivo e la stabilizzazione dell'immagine ottica. Tutti ci chiedono dei megapixel e noi abbiamo sempre una risposta sicura. Ma se iniziate a indagare sulle caratteristiche più importanti della fotocamera, potreste cogliere di sorpresa quell'esperto di telefoni. Anche il processore non è più così importante. Se non siete interessati a giocare e ad esplorare la realtà aumentata sul vostro telefono, non cercate un processore potente. Al giorno d'oggi qualsiasi telefono di fascia media ha un processore adatto all'uso comune. Quando iniziate a dubitare di qualcosa che vendiamo, cercheremo di agganciarvi offrendovi una versione di prova per un mese circa. Ma prova non significa necessariamente gratuita, quindi state attenti e fate sempre le domande giuste. E non ha consentito a nient'altro, prova o meno, a meno che non ne abbiate davvero bisogno. Non importa quanto lo facciamo sembrare interessante e necessario. Ora parliamo di batterie. Fate attenzione alle ore di conversazione e a quelle di stand-by. Le prime riguardano la durata del telefono durante l'uso, le seconde quelle di uso passivo. Entrambe sono importanti se si vuole arrivare a fine giornata senza portare con sé un caricabatterie. Nessuno dei miei clienti mi chiede mai niente di questo, quindi ora lo saprete. Più potente hai il tuo telefono, più energia richiederà. Siete sicuri che la necessità di ricaricare costantemente il vostro telefono valga le sue prestazioni ultra performanti? Di solito non lo è, quindi scegliete quelli più semplici e duraturi. Alla gente piace comprare telefoni di marche famose che riescono a venderli a prezzi superiori ai 1000 euro. E a noi commessi piace molto quella commissione. Ma ci sono telefoni che costano molto meno e non sono così peggiori rispetto ai grandi nomi. Hanno le stesse caratteristiche di quelli costosi, ma la metà dei vostri soldi non andrà a finanziare il reparto marketing. Se volete ancora comprare un telefono di una marca famosa, pazientate un po'. Se non potete comprare questo dispositivo oggi, potrete farlo tra un anno, quando l'enfasi per il prodotto sarà diminuita. Quando l'attenzione delle persone verso un prodotto inizia a diminuire, il suo prezzo scende inevitabilmente. Il negozio avrà ancora in magazzino molti di questi vecchi modelli. Oltre a questo è sempre bene aspettare, perché solo il tempo dirà se avete davvero bisogno di questo gadget o meno. Quando un prodotto cattura la tua attenzione, il tuo cervello reagisce come se fosse qualcosa di cui non puoi fare a meno. Ma dopo un po', quando le sostanze chimiche nel cervello si saranno calmate, sarà in grado di prendere una decisione sensata. Quando si acquista un telefono, cercate di capire quali sono le funzioni principali di cui avete bisogno. Se volete chiamare i vostri amici e navigare in rete una volta ogni tanto, a che serve avere uno smartphone dal prezzo stravagante con una buona scheda grafica per giocare ai videogiochi? Evitate di comprare un telefono con funzioni che non vi servono e risparmierete una fortuna. Cerchiamo sempre di vendervi qualche app che tutti usano, è un must e è una parte che sappiamo fare bene. La verità è che la maggior parte di queste app hanno un analogo economico o addirittura gratuito che potete trovare voi stessi. Anche quelle suggerite dal tuo operatore non sono migliori di altre. Se andate oltre la quantità di minuti, messaggi di testo o giga previsti dal vostro piano tariffario, chiamateci per cambiarlo. È meglio pagare una quota fissa piuttosto che dare via i vostri soldi per ogni minuto, messaggio o bite extra. Sicuramente avrete visto spot televisivi dove vengono pubblicizzate offerte incredibili fatte apposta per voi, ma sono solo per un tempo limitato, quindi prendetele finché sono buone. Tutto quello che dovete fare è inviare un messaggio o chiamare un numero assolutamente gratuito. Ma non sai che facendolo ti abboni a qualche servizio costoso dal quale nemmeno io riesco a farti uscire. Confronta sempre le varie recensioni sul telefono che stai pensando di comprare. Troverai facilmente i punti deboli del dispositivo senza nemmeno usarlo. E di sicuro non li menzioneremo quando ve lo venderemo. La sezione delle recensioni è il luogo in cui viene rivelata tutta la verità. Oh oh, sento dei passi, devo scappare. Spero che tutti i miei consigli siano d'aiuto. Buona fortuna con i tuoi acquisti telefonici. E beh, augura buona fortuna anche a me. Se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, metti un like e condividi il video con i tuoi amici. Abbiamo altri bellissimi video che ti potrebbero interessare. Clicca a destra o a sinistra e ricordati di restare su il lato positivo della vita.